Sabato 23, domenica 24 marzo, Sulmona ha partecipato alle giornate PAI di primavera che si sono svolte in tutta Italia con lo scopo di far conoscere, tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico italiano. L'avente è stato organizzato dai volontari PAI di Sulmona che collaborano con la Delegazione dell'Aquila, con il supporto dell'Agenzia di Promozione Culturale. È stato un momento di incontro tra la gente e la storia più nobile, più bella della città, un'occasione di festa e di riflessione sulla funzione e sul futuro del nostro patrimonio storico-culturale. Il tema è stato sulla figura di Celestino V. I visitatori si sono stati accompagnati in un itinerario dal titolo sulle orme di Celestino V, il Papa Eremita. Durante la passeggiata, turisti e visitatori hanno avuto la possibilità di visitare in esclusiva per il PAI la Grancia dei Celestini, piccolo monastero celestiniano situato nei pressi di Porta Napoli ed altri oggetti e cimeli legati al Papa Eremita collocati nelle principali chiese cittadine. Dopo il percorso in città, i visitatori si sono recati in località Badia dove, grazie all'Associazione Celestiniana e dai custodi volontari, hanno potuto visitare l'ermo celestiniano di Santo Nobrio al Murrone. Abbiamo intercettato un gruppo di visitatori mentre si recavano in misita ai principali monumenti della città. Io vengo dalla Sardegna, la città mi è piaciuta molto, ero già stata ma senza aver avuto l'opportunità di fare una visita guidata, devo dire che con una spiegazione degli volontari del FAI è molto più interessante, è un bellissimo patrimonio. Mi sarebbe aspettata di trovare delle opere artistiche così importanti o un patrimonio storico così importante in una città che io conoscevo sotto un altro punto di vista. Oltre ai volontari FAI i visitatori sono stati accompagnati dagli apprendisti Ciceroni, studenti del liceo classico video di Sulmona, debitamente formati. Le giornate FAI di primavera hanno avuto il patrocinio del comune di Sulmona. In tutto siamo una decina di volontari e più 4-5 guide, guide turistiche e alcune delle quali guide turistiche regionali riconosciute. Ci accompagnano nel nostro itinerario anche gli apprendisti Ciceroni del liceo classico video per via di una convenzione di alternanza a scuola lavoro che il FAI ha fatto con il liceo classico. Dobbiamo ringraziare anche per la collaborazione, l'associazione celestiniana, i volontari delle frazioni e il comune di Sulmona per quanto riguarda il patrocinio e l'agenzia di promozione culturale centro regionale beni culturali che ha creduto da subito all'importanza del FAI nella promozione del territorio. Quante persone come turisti o altro hanno partecipato a questi gruppi? Contiamo una stima di un 700 persone provenienti sia dalla regione che da fuori regione. Grazie.